Un mondo vero. Sarebbe bello un mondo dove gli uomini sono fatti come uomini, le donne come donne, i bambini come bambini. Un mondo dove ci sia dignità per gli anziani e diversi, rispetto sincero per i deboli. Sarebbe bello sentire parole che hanno senso, che hanno la forma giusta per un contenuto non virtuale e che sono la proiezione armoniosa delle cose. Udire voci chiare, non il frastuono che copre il vuoto del nulla che ogni giorno dà spettacolo, ma suoni comprensibili per una mente che ha sede di sapere. Trovare forme definite per lo spirito che cerca la strada. Riuscire ancora a vedere l'orizzonte come linea immaginaria che separe il cielo dal mare, perché, senza perdere l'unità della visione, possiamo capire chiaramente che il cielo è il cielo ed il mare è il mare. Riuscire ancora a vedere l'orizzonte come linea immaginaria, come a chi ha sede di sapere. Grazie a tutti.